Porto un ricordo bellissimo di quel giorno Qualche giorno prima mi era arrivata a casa una lettera Ero atteso in tale posto, a tale ora Qual era l'obiettivo? Lo scopo della nostra missione è sempre stato lo stesso Fin dal primo momento Questa è l'equazione del tempo Tanto semplice quanto efficace Perché siete qui? Per risolverla